Piedi d'acciaio, non lasciatemi proprio ora! Piedi d'acciaio! Siki! Chi li ha lasciati qui? Adornerà quel folle super mezzo! Piedi d'acciaio! Giusto! Starà benissimo col mio dente d'oro! Questo cristallo ha il potere di guarire il mio portafoglio vuoto! D'acciaio! D'acciaio! Piedi 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 d'acciaio! Adoro le cose che luczicano! un diamante è per sempre proprio come un robot no Oh, grande! Ho raccolto anche queste stupide palle di pelle. Sì! Sì! Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, ehi. Preparati a essere distrutto, fuso, e poi riciclato in cinture di sicurezza metalliche. Cinture di sicurezza? Vai! Io le metto in pericolo, mica le salto. Buia! Lascerà un'ammaccatura! La scuola! ... ... ... ... ... ... ... Hey! Oh, uno di questi! Oh, uno di questi! Oh, uno di questi! Oh, uno di questi! Chi lo trova ce lo tiene! Oh, uno di questi! Oh, uno di questi! Oh, uno di questi! Mi spiacerà per quel tipo! Lo farò incastonare su un anello raffinato! Oh, uno di questi! Starà benissimo col mio dente! Cucinato sarà buoni! Oh, uno di questi! 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 Un robot! Oh, uno di questi! 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 Go, uno di questi! Oh, uno di questi! E poi! Oh, uno di questi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.